Lo abbiamo recuperato al chilometro 155 sulla superstrada direzione Urbino-Fano, all'uscita di Bellocchi, verso le 6.30 del mattino su indicazione della polizia stradale di Urbino, perché ha provocato un incidente stradale. In quale modo si può riscontrare il fatto che sia un lupo? Ma sicuramente dalla mole e comunque dalla dentatura, dei canini molto pronunciati e anche la distanza tra un canino e l'altro è superiore a quella che generalmente può avere anche un cane pastore tedesco, che è quello che magari somiglia di più. Poi anche dagli arti, dalla stazza dell'animale. Lo inviamo all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti di identificazione di specie. Però non è nemmeno un fatto, una novità, perché comunque è già stato segnalato anche su aggressioni a pecore e capre nella zona e il lupo si sposta all'incirca, generalmente la notte per predare, fa anche i 50 chilometri. Quindi ci sta che possa essere un lupo.